Forza i viola, forza i viola, forza i viola le Signori miei, ci hanno purgato ancora Grandissima partita della Fiorentina come in campionato a Torino Gioco, gioco, gioco Poche occasioni veramente concrete Molti tiri verso la porta Ma comunque ci hanno purgato di nuovo Sempre al 91esimo e sempre quadrado Che a Torino ci ha purgato da solo Mentre qua ha procurato l'autogol del nostro fiorentino Doc Lollo Venuti Che si è messo a piangere come un matto Ha ragione, ha ragione veduta Ma ti rifarai Lollo, non ti preoccupare, ti rifarai Grande partita della Viola come dicevo Grandissimo icone Però deve acquistare in concretezza come tutta la squadra Perché ragazzi la palla va buttata dentro la porta Se non la butti dentro non godi ragazzi Godi solo a metà E purtroppo su questo dobbiamo crescere Palloni giocabili per Piontek e Cabral pari allo zero Occasioni create dai laterali solo dai connei Gonzales è entrato alla fine proprio al posto del francese Però ha giocato poco, poco e male Aveva anche la febbre e tutto quanto Sottile è entrato ma ha risolto poco Gran partita di Torrera Gran partita di Igor che ha bloccato il nostro serbo nemico Che era bloccato almeno credo dai fischi e tutto quanto Comunque al ritorno le speranze a mio parere sono veramente poche Purtroppo ragazzi con due partite così belle come quelle in campionato Ripeto non abbiamo raccolto assolutamente nulla E la Juventus come sempre ci purga Non c'è niente da fare anche con loro Ci vinciamo una volta ogni cinque anni all'incirca Stiamo a vedere come andrà a finire il 20 di aprile Non abbiamo nulla da perdere Bisognerebbe fare un gol subito per riaprire le speranze Ma staremo a vedere Adesso domenica ci aspetta una partita difficilissima contro il Verona Però comunque intanto assorbiamo questa sconfitta Grande 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 viola Grandi ragazzi un grandissimo applauso Ma ogni tanto questi match vanno vinti come detto Se no godi solo la metà e lo ribadisco Volevo menzionare tutti i tifosi juventini Che giustamente godono Perché quando si vincono queste partite Da loro definite coppette Ma alla fine ci tenete a quanto pare Che avevate comunque una squadra Tolta la panchina dai quali sono entrati solamente Morata e Quadrado Guardo, tolgo un attimo lo sguardo dal video Per leggere la formazione che avevate Perin, Danilo, De Sciglio, A.K. Che era l'unico che non c'entrava nulla Tolto subito per far entrare a Quadrado All'inizio del secondo tempo Locatelli, Artur, Rabiot, Pellegrini, Moisekin e Vlaovic È vero che in panchina non avevate nulla Ma dovete capire che è da stamattina Che becco in giro la gente Mattina, pomeriggio, prima serata Che piangono, piangono, mancano tutti La squadra che avete voi Ce l'hanno quasi sempre Le provinciali Le provinciali sono abituate a giocare con 13 giocatori E senza panchinari E voi vi lamentate sempre Sempre, sempre Poi vincete 1-0 E godete Abbiamo vinto senza i giocatori di Quadrado Ma lasciate perdere Lasciate andare E non discorrete sempre Godetevela, godetevela Perché giustamente ve la dovete godere Ma i tifosi veri sono altri Ricordatevelo Forza Viola ragazzi Forza Viola e Forza Viola